Una iniziativa, un'assemblea pubblica organizzata da articolo 1 con la presenza delle varie rappresentanze sindacali dell'assessore Borracino. Siamo con Sergio Bellavita, componente della Segreteria Nazionale di USB. Una realtà davvero pazzesca quella che si sta creando. Innanzitutto si rischia una lacerazione nella città di Taranto tra ambientalisti e dipendenti. E poi soprattutto non ci sono garanzie né occupazionali né ambientali. Il governo sembra così navigare a vista e sembra essere completamente appiattito rispetto alle richieste assurde di Arcelor Mittal. Sì, siamo in una situazione davvero surreale, quasi da film un po' comico. Un horror comico, ma se non fosse in realtà un dramma che rischia di precipitare e aggiungersi a tutti quelli che la città e che i lavoratori ex Silva hanno subito e stanno subendo da un po' di anni a questa parte. Beh, giustamente, hai detto, il governo non ha testimoniato proprio una grande fermezza nel rapporto con la multinazionale. L'unica garanzia che al momento emerge con nettezza è che sarà tutto contrattato in peggio. Quindi il rischio serio è che ci sia ancora acciaio prodotto sempre nello stesso modo e quindi veleni mortiferi sulla città di Taranto, in sicurezza dentro il luogo di lavoro. In più dovremmo anche dare un finanziamento, perché di questo si tratta, la partecipazione al capitale privato pubblico, al capitale privato di Mittal. Per sostenere le perdite di Arcelor Mittal. Per sostenere le presunte perdite di Arcelor Mittal, che in giro per il mondo però non è esattamente in perdita. Siccome i conti loro li fanno a livello globale, questo è un gioco delle tre carte che la multinazionale ha messo in campo. Quindi la situazione rischia di volgere al peggio, perché questa disponibilità a trattare ovviamente fuoriera solo di ulteriori arretramenti, licenziamenti di massa, più o meno mascherati, veleni ancora sulla città. Non si vuole prendere atto, questo stabilimento non è possibile ambientalizzarlo. Questo stabilimento ha una produzione che è mortifera, che produce veleni e quindi quella acciaieria va chiusa. Ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo. Bella Vita, invece le altre organizzazioni sindacali, parlo di FIM, FIOM, WIM, sembrano quasi voler accondiscendere le richieste di Arcelor Mittal pur di non perdere il padrone. È una realtà paradossale, pazzesca, che nel 2019, quasi nel 2020, si deve assecondare il padrone. Siamo ritornati allo schiavismo pur di non perdere un tozzo di pane avvelenato. Ogni organizzazione costruisce la sua posizione in maniera legittima, poi ovviamente legittimamente esprimono il mio punto di vista. Io penso che c'è sempre un'alternativa. E quando un sindacato dice che un'alternativa non c'è, che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti quello che c'è, sapendo che è peggiora e quale condizione crea la città, i lavoratori, beh, è veramente un sindacato che subisce e conosce una grossa crisi. Il punto qui è che non possiamo tornare all'Ottocento e immaginare che... Forse anche indietro. Forse addirittura anche indietro, dobbiamo tornare, non so, forse al Medioevo. Dobbiamo pensare che l'uomo, che l'umanità, possa liberarsi da alcune produzioni. L'umanità, non intendo spostare da Taranto a un'altra città per capirci, ma che si possa vivere una vita dignitosa senza avvelenare l'ambiente, senza avvelenare i nostri figli e anche magari avere un salario dignitoso. Se invece l'alternativa non viene vista e si pensa solo a difendere l'esistente che è sempre più piccolo, che è sempre più misero, sempre più umile, beh, ogni volta dovremmo accontentarci a un livello più basso e questo è francamente inaccettabile. Concludendo la posizione di USB, visto che le richieste di Arcelor Mittal sono assurde se non si trova un altro investitore o lo Stato non interviene e si chiude? Beh, intanto partiamo da un punto. Lo Stato ha deciso di intervenire a sostegno dell'impresa privata. Noi diciamo che lo Stato deve intervenire a sostegno della cittadinanza, dei lavoratori e non a sostegno dell'impresa privata, perché Mittal lascerà comunque Taranto. Non ha bisogno, non è strategico, ha decine e decine di stabilimenti in giro per il mondo e Taranto non gli serve. Quindi c'è bisogno di fare cosa? Di un nuovo piano straordinario intervento pubblico che garantisca la riconversione del territorio, la decontaminazione della fabbrica, che garantisca in parte e in grossa parte l'occupazione, il salario e il reddito, perché tutte le operazioni salva-ilva, dobbiamo anche dircelo prima o poi, anche dal punto di vista del fatto economico, hanno un segno meno davanti, clamoroso, quindi non abbiamo conseguito nessun risultato e quindi questo è il punto per noi di rimente. Cerchiamo di rivolgerci alle associazioni ambientaliste, il 29 ci operiamo, il 29 c'è la manifestazione cittadina che vogliamo grande, insieme a tutte le associazioni ambientaliste, a tutti i cittadini che sono chiamati a schierarsi o per la chiusura dell'eliminazione delle fonti inquinanti oppure per dire la ciaia ogni costo e rimettendo ogni volta un pezzo, quindi WSB cerca di fare cerniera e di rompere questa tradizione nefasta in cui il lavoro viene contrapposto alla salute.